Giulio Favale, esterno Granata, quali sono le tue prime sensazioni dopo questo periodo di preparazione, allenamento e le prime gare ufficiali? Allora, il gruppo è cresciuto dall'inizio della preparazione ovviamente e c'è grande empatia sia col mister che con lo staff, squadra e con la squadra anche a livello personale mi trovo molto bene con i compagni. Siamo cresciuti, dagli errori anche della scorsa domenica siamo ripartiti e vogliamo fare una grande settimana per poi arrivare pronti a sabato e ovviamente avere l'obiettivo di vincere con intelligenza e maturità, bisogna andare sabato e fare risultato nella prima partita di campionato. Che cosa ti ha richiesto da mister Alvini in campo e magari quanto questo è differente da ciò che ti era richiesto in passato? Mister Alvini ha un'idea di gioco molto precisa e quindi a livello personale molta corsa però sono diciamo le mie qualità principali quindi mi trovo molto bene e io devo fornire molti assist per i miei attaccanti e il mio obiettivo principale è quello. Mentre invece cosa ti aspetti magari anche a livello di ambiente dalla partita di sabato, insomma un esordio al Città del Tricolore molto atteso? Sono sicuro che i tifosi risponderanno alla grande perché è una piazza calda, è una piazza che ha cento anni di storia e quindi sono sicuro che verranno in molti e il nostro compito è di trascinarli e loro dovranno trascinare noi. Anche nei momenti di difficoltà dovranno continuare a sostenerci.